Parigi e Berlino chiedono chiarezza al governo del Regno Unito, sempre più incastrato in una Brexit la cui strada non si vede ancora. A chi gli chiede di commentare la nuova possibile richiesta di tempo che la May rivolgerà a Bruxelles, il ministro degli esteri francese Jean-Yves Ladrian ha risposto di non poter essere certo di nulla. Non si capisce se effettivamente è cambiato qualcosa, ha detto. Cercare di decifrare le decisioni di Londra potrebbe portarci via giorni interi. Parole che fanno il paio con quelle del governo di Berlino, convinto che il tempo a disposizione del Regno Unito stia drammaticamente scadendo. Una situazione tesa e confusissima su cui prova a gettare acqua sul fuoco il capo negoziatore dell'Unione Europea per la Brexit, Michel Barnier, secondo cui un no deal, benché probabile a questo punto, potrebbe essere evitato in extremis. L'ipotesi di un dialogo con l'opposizione laburista sembra insomma piacere all'Europa. Grazie. Grazie.